che me ha si non temo a tu che me ha che me ha che mi ha tu non pregresti su ma su non pregresti vabbè che cosa è? che cosa è se si può di gritar qui adentro? un grito di rubio che me ha che mi ha che mi ha che mi ha che mi ha Su nome è Gesù Su nome è Gesù Su nome è Gesù Donde sta il Espiritu di Dio? Donde sta il Espiritu di Dio? La libertà, la libertà Donde sta il Espiritu di Dio? La libertà, la libertà Libertà, libertà Libertà